ciao a tutti ragazzi questo nuovo video allora ragazzi oggi siamo in macchina come vedete e lori si è già addormentato ma come neanche tempo di toccare la macchina già si è addormentato vabbè ci siamo preparati e abbiamo messo lo stesso sotto il costume però non so se oggi passeremo la giornata al mare perché non c'è proprio questo bellissimo tempo è vero serena serena un po' dispiaciuta perché si voleva far fare le treccine vabbè ma poi magari se li farà fare in questi giorni tanto abbiamo ancora qualche giorno davanti da farci ai serena cosa dici e niente allora conciò oggi passeggeramo un po non so dove ci porta papà stefano papà stefano dove ci porti a trovare un parcheggio ah è vero ragazzi perché qui dove siamo noi non certo non ci sono tanti parcheggi si fa un po fatica a trovare il parcheggio conciò sta facendo girotondo papà stefano vabbè poi vediamo magari giriamo un po il posto anche perché già alcuni posti li abbiamo girati magari giriamo una da un'altra parte dove ancora non abbiamo fatto nessuna passeggiata vabbè 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 speriamo di trovarlo questo parcheggio perché sennò ci toccherà passare tutto il pomeriggio girare in macchina qui ragazzi l'abbiamo trovato finalmente dai scendiamo e andiamo a fare una bella passeggiata dai scendete dai andiamo andiamo a fare una bella passeggiata sì amore allora abbiamo parcheggiato la macchina finalmente dopo tre ore che giravamo abbiamo trovato il parcheggio però guardate qua che bello il mare ragazzi facciamo vedere un po il mare guardate ragazzi che bello e poi c'è anche la collina la montagna davanti è vero vabbè dai attraversiamo adesso guardate ragazzi dalla fotocamera non rende però è pulitissimo è bellissimo vabbè che bello guardate che bello vediamo questa parte del mare perché qui ancora non siamo venuti è vero magari verremo qua o forse dopo domani perché viene da più tempo vabbè comunque c'è ancora mi spiace ce n'è molta molta ricordiamoci la macchina allora perché se no se non ci ricordiamo dove l'abbiamo messa poi siamo un po fredati vabbè continuiamo a passeggiare continuiamo a passeggiare della ronzo e giulia e si due in un passeggino tutti e due almeno non si stancano perché gira poi dopo un po che cambiene inizia a fare capricci allora ragazzi mentre passeggiavamo ci siamo fermati in un ristorante a mangiare qualcosa con ci adesso mangeremo qualcosina e poi dopo ritorniamo a fare una passeggiata la serena iniziamo a mangiare buon appetito stai mangiando tanto eh giulia è vero? tantissimo sta mangiando giulia ma ci avevi tanta fame? mi piace tanto eh? sì? mi piace tanto eh? anche tu amore eh? davvero? che quello stai mangiando? quante cose stai mangiando? tu? tu serena? stai mangiando più giulia di te? sto mangiando più giulia di te? ma è buona? giulia vieni? hai mangiato tanto? tanto tanto? è bene ha mangiato molto più di me per mi bevire allora si è riempita? tantissimo mamma mia ho riempito troppo adesso ci sta ancora una bella passeggiata no, una dormitina no, no, c'è da smaltire tutto no, una dormitina e poi smaltiamo tutto eh? che ne dici? così ti rimane tutto sullo stomaco sì direi proprio di no va bene allora ragazzi, niente stiamo andando verso la macchina così poi magari, non lo so andiamo a fare un giro da qualche altra parte anche così almeno smaltiamo un po' anche perché direi di tornare subito a casa no però comunque ragazzi guardate che bello le palme wow che bello godiamoci questi ultimi giorni che poi finiscono Giulia è buono il ghiacciolino? ci saranno di avermi visto dalla spiaggia allora nel frattempo nel frattempo nel frattempo che andavamo verso la macchina ci sono fermati a bere il caffè e a loro mangiare il ghiacciolino vero Lori? e Lori va dietro ai piccioni ricorre ai piccioni e poi li fa scappare allora ci stiamo dirigendo verso la macchina vero? si andiamo verso la macchina dai anche perché adesso sono un po' sanca di camminare anche io andiamo allora ragazzi andiamo in macchina dai siamo quasi vicino serena mamma che c'è? ma dov'è la macchina? non lo so ma l'avevamo lasciata qui? no forse magari mi sto sbagliando ma non l'avevamo lasciata qua la macchina? eh sì alla regola doveva essere qua la macchina no oh mamma mia non è che te l'hanno ritirata e non la potevi lasciare qua? è facile come l'ultima volta che era successo che siamo venuti qui? no niente andiamo a cercarla se no proviamo a passare lì dove c'è che ritirano le macchine va bene andiamo proviamo ad andare a vedere e tu vai io intanto proverò a guardare qua in giro perché è una cosa impossibile anzi ti aspetto qua perché con i bambini come faccio? allora ragazzi niente stiamo andando a vedere papà Stefano l'ha già chiamato alla fine siamo andati un po' dietro lui e niente è andato ha chiamato per sentire se gliel'ha ritirato il cara a Trezzi e a quanto sembra loro non ne sanno niente di tutto questo e niente mi ha detto che poi richiamavano dopo gli hanno detto che controllavano un attimo perché comunque hanno un sacco di macchine loro e controllavano e andavano a chiedere adesso non lo so a chi vabbè comunque adesso noi non sappiamo veramente come fare per tornare a casa perché è troppo lontano ragazzi da casa è vero delle vacanze a dove siamo noi e con ciò adesso siamo davvero incasinati stiamo cercando abbiamo guardato noi pensavamo abbiamo guardato anche lì in giro ma per vedere se magari avevamo sbagliato noi per sbaglio che ne so il parcheggio che non ci ricordavamo e invece alla fine no cioè era quello e l'abbiamo parcheggiato lì adesso non è che siamo mati vabbè comunque speriamo bene niente adesso stiamo un po' camminando e stiamo andando verso stiamo andando verso casa in pratica ma però siamo un po' incasinati perché la casa è lontana ragazzi e adesso più che altro riusciremo a trovare la nostra macchina perché senza la macchina come facciamo noi andiamo a piedi eh sì andiamo a piedi ma lo sai che è lontano andiamo a piedi cosa vabbè niente mi sa che anche perché stasera dava sì amore hai visto le nuvole anche perché stasera dava pioggia ragazzi oggi dava pioggia e infatti come vedete il cielo è un po' strano ragazzi e non vorrei che inizi a piovere e noi siamo qui in mezzo cioè in giro senza macchina e vabbè niente mi sa che ci toccherà chiamare un taxi stavamo parlando prima con papà Stefano che ci toccherà chiamare un taxi tornare a casa e e niente e aspettare che qualcuno ci dia ci dica qualcosa che fine ha fatto la nostra macchina ma voglio trovare la macchina eh lo so amore anche io anche noi vogliamo trovarla Giulia è solo adesso vediamo cosa facciamo al limite chiamiamo il taxi e andiamo a casa in taxi ok ma il taxi non può guidare bene mamma se ci sono nuovata speriamo di no Serena cioè è per quello io sono preoccupata e anche papà Stefano è preoccupato perché non sappiamo che fine ha fatto non sappiamo se ce l'hanno rubata o se l'hanno presa il carattrezzi non sappiamo niente in pratica nulla di niente come potremo fare per scoprirlo non lo so non lo so non lo so niente aspettiamo la chiamata dal carattrezzi quelli che lavorano lì adesso non so come si chiamano carattrezzi dal macchino lo so amore dai sono stanchissima anch'io Serena e Giulia lo sai le tre ore che stiamo camminando sei stanco amore vabbè dai adesso papà chiama il taxi ok amore hai chiamato il taxi eh sì sta arrivando amore che sei stanca dai adesso papà ti ha chiamato il taxi amore fra quanto tempo arriva il taxi eh il taxi non lo so deve arrivare fra qualche minuto 5 minuti però è già passato un po' di tempo speriamo che arriva dai niente andiamo verso te dai allora andiamo qua nel marciapiede che magari così ci vede meglio niente ragazzi noi vi salutiamo speriamo che questo video sia piaciuto speriamo che il taxi arrivi in fretta mi raccomando voi spoliciate e iscrivetevi al canale per far sì e attivate la campanellina sì mi raccomando per far sì che vada tutto bene e che soprattutto trovi nella nostra macchina niente dalla sfortuna vi salutiamo poi vi faremo sapere che fine ha fatta la nostra macchina perché adesso siamo a piedi niente se seguitici sui social instagram twitter facebook commentate condividete e noi ci vediamo con un prossimo video della big family ciao ragazzi ciao ragazzi anche se non c'è niente da dire perché è vero ma non è ancora finita bene non sappiamo ancora com'è finita Giulia stavolta ciao ciao oh eccolo è arrivato è arrivato andiamo ciao 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 ciao